Molti proprietari di gatti si sono chiesti almeno una volta perché i loro amici felini sembrano preferire la solitudine. Se il tuo gatto è spesso ritirato e sembra trascorrere lunghe ore da solo, potrebbe esserti venuta in mente questa domanda. In realtà, la natura solitaria dei gatti è una caratteristica intrinseca del loro comportamento, ma ci sono anche altri fattori che possono contribuire a questa preferenza per la solitudine. Natura innata I gatti domestici discendono dai loro antenati selvatici, che erano solitari per necessità di caccia e sopravvivenza. Questa caratteristica si è conservata nel corso dell'evoluzione, e molti gatti domestici mantengono l'istinto di cercare momenti di solitudine. I gatti sono creature territoriali, e spesso preferiscono avere un luogo tranquillo e sicuro in cui potersi ritirare quando ne sentono il bisogno. Indipendenza felina Una delle caratteristiche distintive dei gatti è la loro indipendenza. A differenza dei cani, i gatti non dipendono tanto dalla compagnia costante degli umani o di altri animali domestici. Questa indipendenza li porta a cercare momenti di tranquillità e relax, lontano dalle distrazioni esterne. Quindi, se il tuo gatto sembra sempre solitario, potrebbe essere semplicemente un riflesso della sua natura autonoma. Esperienze passate e socializzazione Le prime esperienze di vita di un gatto, soprattutto durante la fase di socializzazione nei primi mesi, possono influenzare il suo comportamento futuro. I gattini che sono stati introdotti a una varietà di esperienze e interazioni positive con gli umani e altri animali potrebbero essere più socievoli e desiderare compagnia. D'altra parte, i gatti che sono stati esposti a situazioni stressanti o negative potrebbero preferire la solitudine come meccanismo di coping. Cambiamenti nell'ambiente I gatti sono creature di abitudine e possono essere sensibili ai cambiamenti nell'ambiente circostante. L'introduzione di un nuovo animale domestico Una ristrutturazione o un cambiamento nella routine quotidiana potrebbe far sì che il tuo gatto si ritiri per adattarsi alla situazione. Questo non significa necessariamente che il tuo gatto sia infelice, ma piuttosto che sta cercando di gestire e adattarsi al cambiamento. Monitorare il comportamento È importante monitorare il comportamento del tuo gatto nel tempo. Mentre la solitudine è una caratteristica naturale per molti gatti, è anche essenziale assicurarsi che non ci siano altri segni di disagio. Cambiamenti drastici nell'appetito Comportamenti igienici alterati o comportamenti anomali potrebbero indicare un problema di salute o stress che richiede attenzione veterinaria. In conclusione, il fatto che il tuo gatto sia solitario non è necessariamente motivo di preoccupazione. La preferenza per la solitudine è spesso un tratto naturale nel comportamento felino. Tuttavia, è importante rispettare le inclinazioni individuali del tuo gatto e offrirgli un ambiente sicuro e stimolante. Conoscere la natura dei gatti e le loro preferenze ci aiuta a stabilire un equilibrio tra la loro autonomia e il nostro desiderio di fornire loro amore e cura. Grazie a tutti.